La vera Chiara Se il primo istinto con le cose brutte è quello di evitarle o di fuggire, abbiamo invece capito insieme che l'unico modo è quello di accogliere ciò che viene, ficcarcisi dentro e insieme alle belle facce che abbiamo di fronte e riconoscere che dopo tutto non possiamo aspettarci solo cose belle. I love it when you read to me and you, you can read me anything. L'amore è una strada stretta dove le cose vanno bene o vanno così. Grazie. Grazie. Che bello. Grazie. 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 e un solo spirito, come una sola, è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, gli diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quante ne volevano. Io, Davide, accolgo te Chiara come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Chiara, accolgo te, Davide, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Grazie a tutti i giorni della mia vita. Vai, la parte corta! Anjanjats! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Well, I know I've had it all on the line. He'll always be my only guiding light. Late in my youth. Well, I'm still in all the time. E' un'altra cosa che ha riuscito a riuscito a riuscito a riuscito a riuscito a riuscito. E' un'altra cosa che ha riuscito a riuscito a riuscito. E' un'altra cosa che ha riuscito a riuscito a riuscito a riuscito a riuscito. E' un'altra cosa che ha riuscito a riuscito a riuscito. E' un'altra cosa che ha riuscito a riuscito a riuscito.